Grande Fratello VIP 2022 fratto 2023 26 settembre 2022 11 e 54 Jael e Dedona, mio marito non voleva parlassi di rapporto aperto, gli amici potrebbero insultarlo Marcia indietro di Sofia Jael e Dedona che, dopo aver raccontato di avere una relazione aperta con il marito Bradbeck, si pente, temo che gli amici possano insultarlo Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello VIP 2022 fratto 2023 Attiva gli aggiornamenti parziale Marcia indietro di Sofia Jael e Dedona al Grande Fratello VIP La modella influencer ha raccontato pubblicamente di avere un rapporto aperto con il marito, l'ingegnere Bradbeck, per poi pentirsi di quelle dichiarazioni divulgate a mezzo televisione Lo ha raccontato a Sara Manfuso ed Eleonore Ferruzzi alle quali ha confidato i suoi dubbi Jael e Dedona, mio marito non voleva che lo nominassi Jael, che ha sposato il compagno Brad durante una cerimonia organizzata in spiagge in Messico a febbraio, ha rivelato che Beck avrebbe preferito non andasse in tv a parlare di lui Addirittura, avrebbe preferito non essere nominato, Jael e Dedona E il marito Bradbeck Jael, mio marito ha un lavoro serio, chi è Bradbeck? La donna ha quindi aggiunto, è una persona con un lavoro serio e adesso si ritrova con una moglie che va a raccontare la sua vita sessuale Mi chiedo se si capisce che ci amiamo o se la sto facendo sembrare una cosa tipo circo Bradford Bradbeck è ingegnere e CEO di United Aeronautical, società che ha sede a North Hollywood, in California, e che progetta e costruisce materiale aeronautico Due mondi differenti quelli di Jael e Brad che si sono incrociati quando i due si sono sposati sulla spiaggia di Tulluma a febbraio La donna è preoccupata dal fatto che le dichiarazioni risse al GFV finiscano per mettere in difficoltà il marito e provocare una frattura dovuta al Fatop che, a differenza di Jael, Brad non ha scelto di stare in tv e di rendere noti i dettagli della sua vita sessuale e privata